Rieccoci, la giornata di sabato 29 maggio inizierà all'insegno di un cielo sereno e soleggiato sia in pianura che sui rilievi, con valori termici in aumento vicini ai 25 gradi verso le 13. Nel pomeriggio in pianura continueremo a godere di condizioni stabili e di un cielo soleggiato, ad eccezione dei rilievi dove si presenterà della nuvolosità associata a fenomeni. In serata le precipitazioni si potranno spostare anche verso le alte pianure e verso la fascia pedemontana e interesseranno localmente anche le pianure meridionali. Le temperature non subiranno particolari variazioni o al più saranno in lieve aumento, riportandosi più vicine alle medie stagionali. È tutto, arrivederci!